per speak lulu please ma certo buongiorno fragola che sham consigli in ilunga ng per arrivare a gold io gioco seyu zak morgana però perdo in silver 1 ma vinco in silver 2 cosa posso fare per migliorarmi un saluto a dante devi giocare il tuo mirror champion ma non il giochi meglio comunque i tank non sono ideali cioè nel senso vanno bene tutto va bene in solo queue però dipende anche dalle tue mani se ce le montate male allora è ragionabile giocare tank facciamo scegliere a lui no dai no anche in tutto no aspetta perché 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 ma gli ho dato la possibilità di scegliere qualsiasi jungler ha preso il più debole ma com'è possibile cazzo è tu ma com'è possibile ho detto no lulu di scegliere il champion e ha preso vabbè indignato possiamo provare qualcosa di diverso omnidolite o megalul guarda che omnidolite è una signora una signora runa allora la rotu challenger con lì sarà mono omnidolite ragazzi omnidolite to master non challenger scusami ok allora intanto fleet no ragazzi comunque la runa è valida la runa omnidolite non è non è completamente garbage ha il suo perché ha il suo perché è solo strana magari non è efficiente al massimo però non è troll al 100% la runa ok il player è garbage ora vi faccio vedere come stompa omni cane già che ci serve a full ap ma perché pensi che omnidolite sia una brutta runa non è una brutta runa non sto trollando è insolito non sto trollando magari diventerò main omnidolite ma in effetti sarebbe divertente omnidolite e autofill to challenger come road cioè devo giocare sempre fill quindi il ruolo che mi capita è giocare sempre omnidolite secondo me è un format vabbè vorrei fare anche udio oh marron guarda grazie all'omnidolite che ho soppreso un bellissimo face rush che mi servirà a cessare jacks ah cosa avete da dire free real estate per le stack oh shit mi è arrivato un masette in testa avete visto avete visto ragazzi guarda che in questo caso è stato omega utile not even kidding ragazzi ah che dici fight o vuoi guardarmi mal fight mal fight vai a prendere quell'uccisione mal fight sei ridicolo sei veramente brutto mamma mia mamma mia un degno sostituto di canelooper rivals male visto male visto male visto male visto male visto l'avete visto l'avete visto io potevo attivare un biscotto ma l'avete visto l'avete visto no diciamo che qualcosa in più si poteva fare e la volevo fare però misunderstandings c'è chi gioca safe e chi gioca league mal fight sicuramente gioca safe e lì a fightare grande mal fight vabbè non serve aspettare oddio in realtà non so se l'ammazziamo perchè Jax presti attack oh yes presti attack mi ero una preferita su kane bene 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 omni dolite potere all'omni doliti bene 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 se xinzao è un pagliaccio c'è anche il mio red buff up potrei andare rosso ma omni dolito lo voglio o blu lo voglio blu lo voglio controllo di loro red è decent ma anche blu è forte no alla fine si è represo wow che stordimento face rush di omni dolite fammi oh lulu fai qualcosa per me non c'era non aveva livello 6 e perchè Zilean si guarda la trasmobulazione che spell bilanciata perfettamente wow bravissima nico la trasmobulazione da la trasmobulazione prende capito vai è tempo di ammazzare Jax io ho il conqueror adesso con l'omni preferire un'altra luna è possibile omni dolite guarda Jax guardalo 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 poverino c'è fatta tenerezza perchè no lì è lì non c'è più un secondo dopo vabbè andiamo a bullizzare quello lì io ho l'elettro il kit adesso tanto alla fine salta quando salta lo ammazziamo via oh mamma mia Jax oh mamma mia mamma mia pizzeria poverino non lo so perchè oggi sto bullizzando i soft laner ma adesso la riammazziamo sicuro ragazzi oh mamma mia oh mamma mia poverino fa quasi tenerezza fa è un minion no ma i Jax 140 gold oh è il predator bello il predator immagina se cavoli se solo avessi il predator e forma insieme è fattibile quanto mi dura ancora il predator oh dobbiamo provare assolutamente M speed ah ma il predator è solo se vicino agli avversari cringe ma allora niente pensavo di fare delle grandi giocate invece ho di nuovo il predator finalmente mi devo andare dal mio amico bene missione compiuta no amici io li avrei otcleati se mi hai dato una manina possiamo riflettare una certa cosa ho attivato con l'omni idolite no peccato ce l'abbiamo un tool per ingaggiare potrei aver trollato ah era guardato no era partito dal lato prima upsie salve salve bene al fight dovresti dovresti ultare tipo gli avversari sono nemmeno non stiamo apetando reale sarebbe ingaggiare tipo ah nico che cacchio fa non ci posso non ci posso credere ok l'ho presa ma sono stato davvero sfortunato ma davvero 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 sfortunato quel maledetto stealth maledetto maledetto potrebbe fare che non ciò non ciò non ciò non ciò è vorrei fare solo qualcosa anche gli altri sarebbe carino ecco questo è qualcosa malfight si può forzare però c'è il dragon 50 quindi poi ci troviamo in difficoltà secondo me guarda la mia speed rullo oh il malpitino no non fessare out bro è ancora felvito aveva stoppocci seriamente no la ulti di ziria no il genio cusera mi si è rubato il drake io stavo zonando ero tranquillo vabbè il loro jungler non c'entra è arrivata la sua r oh fuck potremmo andare a fare il baron vai andiamo 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 magari meglio su questa volta non lo ruba il baron a me non conviene dall'altro scala abbiamo già fatto durare il game troppo ok lui l'abbiamo preso è da un po' che non vediamo l'amico Jax sono ovunque brandisco il sussurro dell'oscurità così non potrebbe essere problematico ok bene mi hanno cessato i morti credo guarda la ro un'altra resurrezione e che cacchio deve essere mia quella pain ha super panicato poverino si ma ragazzi comunque è stra difficile contro i loro ma loro osservano ma dove sono i teammates ma cosa fanno ma combattono non combattono guardano che cosa stanno facendo ragazzi non è possibile dice che c'è un disconnesso ci deve essere qualche disconnesso ci deve essere sì me ne rendo conto poverina è stata schiacciata spratto vai ragazzi è il vostro momento guarda che non possono nemmeno uscire dalla base loro guardate fatelo non possono uscire dalla base ma cosa fai Xeraf tra l'altro morto in base chiuso guardalo che che deve fare Xeraf sta lì guardalo con curiosità se lo stila se lo stila se lo merita ragazzi finitelo ma tre ore avete no attenzione attenzione Xeraf con le palline guarda che ci ha provato quel ragazzo vercio è ora di arrivare a tempo va bene va bene va bene grazie a tutti Grazie a tutti.